CGL e Cisleguil Macerata hanno riempito la Domus San Giuliano e hanno discusso insieme delle priorità per lo sviluppo del Paese Italia alla luce della legge di bilancio 2019 varata dal nuovo governo pentastellato. Le tre associazioni inizieranno a breve sul territorio, assemblee, incontri e confronti in tutti i luoghi di lavoro e con i cittadini per esaminare temi e proposte. Siamo qui per fare esattamente il nostro lavoro, cioè nell'interesse di chi rappresentiamo, valutare le proposte di governo, capirne l'impatto sulla condizione di vita e di lavoro delle persone che noi rappresentiamo, lavoratori, pensionati, disoccupati, soprattutto le fasce più fragili, perché le iniziative di governo a questo devono dare una risposta e lo faremo come l'abbiamo fatto con i precedenti governi, come faremo con i prossimi, anche con l'attuale, in questo territorio con un'attenzione specifica. Le risposte che questo governo darà alle problematiche che in questo territorio sono venute da due anni a questa parte dopo gli eventi del sisma. Le priorità per tutti sono il lavoro, la riforma del sistema pensionistico e l'equità fiscale che il governo prevede con condoni e flat tax. Riteniamo sia iniqua rispetto ai nostri rappresentati, ai lavoratori, lavoratrici e pensionati che pagano le tasse alla fonte, la diciamo male ma in maniera molto efficace e quindi crediamo che per l'equità della fiscalità ci debba essere una politica equa che vada a recuperare quelle somme che vengono eluse per andare a realizzare quegli investimenti soprattutto pubblici in infrastrutture e difesa del territorio che riteniamo fondamentali per il rilancio del paese. Dall'altra parte la flat tax. La flat tax va esattamente contro quello che sono i nostri valori e quello che è la nostra idea di redistribuzione del reddito e di progressività fiscale. Crediamo che questo sia un elemento di democrazia e di equità che sia per questo paese irrinunciabile. Criticato aspramente anche il reddito di cittadinanza. Il lavoro non si crea per sussidi e secondo noi questo è davvero il tema del lavoro, il grande assente di questa riforma perché manca una politica di investimenti, investimenti nel settore industriale ma investimenti anche nel settore delle infrastrutture. C'è poi il grande tema della riforma pensionistica. Come CGL e Cislequil pensiamo sia fondamentale portare avanti il percorso che avevamo già intrapreso sulla base delle proposte sindacali di riforma della legge Fornero e di introduzione in una serie di strumenti importanti di flessibilità in uscita e strumenti importanti che garantiscono pensioni anche per i giovani, pensioni di garanzia per i giovani e che tutelino le fasce di lavoratori e lavoratrici più deboli, in particolare le donne. Il pomeriggio di Macerata è stato chiuso dal segretario della Cisle nazionale, Andrea Cuccello. Alberi di Natale, palle coloratissime, decorazioni, luci e per la gioia dei più piccoli il villaggio invernale. Il Natale si avvicina e le idee per addobbare la propria casa sono moltissime. Atmosfere magiche, profumi avvolgenti. Il villaggio di Natale alla panicali ambienti a bellocchi di Fano richiama moltissimi visitatori da tutte le marche e non solo. Che cosa trova chi entra in questo showroom? Allora, diciamo il Natale tradizionale che può essere il bianco, il rosso, l'oro. Noi potete trovare anche colori cosiddetti più shocking come possono essere colori carnevaleschi, il viola, il lilla, il rosa oppure anche delle palle decorate a mano, molto belle, interessanti sia come addobbo natalizio ma anche come idea regalo. Qual è la novità di quest'anno per quanto riguarda le luci? La novità di quest'anno si chiama Twinkly. In poche parole anche nel mondo del Natale e dell'illuminazione natalizia è arrivata la tecnologia. Tecnologia intesa come applicazione. Noi applichiamo nel nostro smartphone tutta l'illuminazione che vogliamo dare al nostro albero. Un villaggio invernale che è un vero e proprio capolavoro. Che cosa si trova in questo villaggio? In questo villaggio troviamo un po' di tutto, dal Luna Park alla pista da sci alla città. Poi ognuno di noi con un po' di fantasia riesce a creare qualsiasi situazione. C'è un pezzo nuovo quest'anno, non so, qualcosa di particolare? La sala da ballo. Sembra un pochino di essere a Vienna, no? Se vogliamo. Sono già iniziati gli acquisti per Natale, per i regali? Assolutamente sì. Noi abbiamo notato che la gente inizia sempre prima, forse perché ha paura di non trovare più il regalo azzeccato, quello un po' più originale. Una grande tendenza verso gli oggetti d'arredamento, insomma, come per esempio possono essere dei cuscini oppure anche quadri luminosi. Un'altra idea regalo che va per la maggiore, per esempio, sono le profumazioni d'ambiente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS